benvenuti ragazzi nuovo video tutto te oggi andremo a vedere la novità che arriverà a fine maggio è già disponibile in preordine stiamo parlando di ecopop ecopop ha un prezzo togliamoci subito il dente e il dolore di euro 54,99 e in preordine potete ordinarlo attualmente e le consegne partiranno da fine maggio ciò che colpisce vedendo questo dispositivo è sicuramente la forma diciamo che stravolge un po i nostri dispositivi con questa forma semisferica e nella parte superiore il led classico dell'attivazione dell'assistente vocale altoparlante da 1,95 pollici che prende tutta la parte anteriore e date le dimensioni molto ridotte si adatta bene ad ambienti molto piccoli ad esempio la camera da letto sul comodino visto che poi l'eco della stanza diciamo che fa sì che non utilizziamo al massimo il volume dei nostri dispositivi questo aiuta sicuramente ad avere un prodotto molto più compatto da tenerli sul comodino naturalmente ha tutte le funzioni del nostro assistente vocale sia per quanto riguarda la riproduzione di musica podcast previsioni meteo e quant'altro sia per quanto riguarda la gestione dei nostri dispositivi smart in casa le dimensioni espresse in millimetri sono 99 per 83 per 91 ed un peso di 196 grammi quindi come potete capire bene è abbastanza compatto come prodotto è dotato poi di naturalmente connessione bluetooth low energy e wifi e amazon come ormai da un bel po di tempo è molto sensibile all'ecosostenibilità dei suoi prodotti abbiamo questo prodotto con una certificazione e un badge rispettivamente il climate play friendly e carbon trust tutto questo per indicare cosa che sono prodotti realizzati con il massimo rispetto per l'ambiente tant'è che per quanto riguarda la confezione esterna vengono utilizzate fibre di legno provenienti comunque da foreste organizzate per il sboscamento controllato mentre invece per quanto riguarda la parte in tessuto abbiamo tessuto 100 per cento poliestere riciclato a tutto questo poi si va ad aggiungere il risparmio energetico automatico nel momento in cui non viene utilizzato questo prodotto va direttamente nella modalità di risparmio qui ci sono delle novità anche per quanto riguarda le colorazioni troviamo il color lavanda verde petrolio antracite e bianco biaccio è possibile poi acquistare una custodia protettiva anche questo disponibile in vari colori blu rosso arancione viola lilla verde e anche fluorescente che una volta posizionata di notte si illuminerà prezzo di questa custodia 22 euro e 99 venduta parte naturalmente come accessorio più avanti vedremo magari di fare anche noi il preordine per poter vedere questa meraviglia della tecnologia alla fine si tratta di uno smart speaker magari non è proprio un ecostudio avrà comunque una parte importante dedicata all'audio ma con la funzionalità e la comodità di avere il nostro assistente vocale integrato certo c'è da fare una valutazione chi è possessore magari di un eco show chi è possessore di un eco dot di quelli di ultima generazione dove il suono è stato migliorato veramente tanto e lo ha già posizionato sul comodino perché gli fa da sveglia non lo so magari lo vedo un po più indicato per la cameretta se il ragazzo la ragazza in questione adora ascoltare la musica e siamo in un ambiente comunque dove la musica fa la fa da padrona sicuramente questo è il prodotto che si va ad inserire in maniera per certa anche se ripeto per come la vedo io sinceramente gradirei di più un eco show o un eco dot di ultima generazione considerazioni totalmente personali fatemi sapere invece voi se avete visto questo prodotto come un qualcosa di innovativo che si può inserire meglio all'interno delle vostre camere da letto piuttosto che la cameretta o dove volete inserirlo voi oppure gradireste di più utilizzare continuamente un prodotto come un eco show oppure un eco dot detto questo ragazzi il video si conclude qui lascio qui sotto il link in descrizione per poter fare il preordine e io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao